E' tremenda questa cosa. Il brasiliano è diventato. Il brasiliano è diventato. Mi partono alle volte, è un terribile. Sandro, grazie per i tre mesi, bentornato. Uccisione di merda, grazie per i 16. Uccisione di troie, grazie per i 21. Esplosione del Giappone, grazie per i 10. Per l'arbor, grazie per gli 8 mesi. Senti, con tutto il rispetto Gianmarco, io penso che tutti questi nick che hai letto siano fatti. Con magari qualche bicchierino alcolico, purtroppo ci sono quelli... Sì, però non lo faccio per le live, mi piace, eh, devo dire la verità, cioè... Ah, no. No, no. Sì. 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 Ah, no, 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 no. Sì. Oh, ragazzi, mi dato una... Gianni Fantoni! Ecco qua! Gianni, fammi vedere le palle su... Belle, belle venose, belle str... Belle... E anche il co-protagonista di Suburra dietro di lui, a quanto pare. Non è power, non è power. Emanuele, Emanuele con due M... Alzi, mi fai vedere l'addominale un attimo, tarta? Mi fai vedere tarta? No, mi dà, dai, dai, dai. Io spettavo la pancetta fa. Ma che spettavolino, ma Dio, Stefan! Un uomo di sostanza, eh. Emanuele... Emanuele... Grazie, Emanuele! Grazie mille! Grazie, grazie mille! Grazie! Eh? No? Andate, era per un saluto! Sono passati per un saluto! Ciao! Tu hai invitato uno sconosciuto in live e poi l'hai cacciato dopo tre minuti che gli... No, ma... Ciao Giammo! Ciao Emanuele! Ciao, bel casino! ciao 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 ragazzi abbiamo capito giambo ciao la tragedia la tarta davvero quello che ha capito tutto è mazza che stalla in maniera birra diretti non c'ho altro caso ragazzi e ti mette le ali mi raccomando ragazzi non mancate al prossimo evento red bull no 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 giambo giambo no giambo no giambo 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 ma che cazzo sta facendo eccolo vi è dello scherno in questa si no certo ovviamente c'è Marco c'è uno scherzone vi raccomando dillo per favore che è uno scherzo eh che qua siamo nei cassini veramente se no eh dai no giambo basta acquistare la telecamera eccomi qui ragazzi adesso vi sento eh adesso vi sento voi va? voi va? ma do attento eh te ne servono sei chili di fazzoletti non mi sottrarò mai ad arrabbiarmi delle questioni sei un grande Mario ok grazie anche a te Darione a quanto pare non c'è Gianmarco si va allettando scusate stavi dicendo Mario scusate il giocato anche io credo che in questa società ipergamica comunque la figura della donna non sia più io sto con i miei amici io mi sto diventando il mio fischietto e chi mi ammazza? aspetta che provo a buttare dentro Marino aspetta un attimo grazie per i dodici colpo di scena per l'arbor grazie per gli unici è sempre però è strano tu non sai perché hai letto questa cosa vero? marino marino cambia cambia subito ecco marino mi è stato detto che Mario ha preso un po' di pro player di full guys non so se questo lui fa sempre così marino nella mia community ci sono i pro player che è diverso non c'è uno non è il pro player di full guys cioè proprio andrebbe battere anche la community di Gianmarco a full guys è molto competitivo il ragazzo e quindi lui è vero nella sua vita ha preso come dire persone già affermate per portarle dalla sua parte tutto vero tutto vero tutto vero l'ho fatto anche qua ad esempio la got league ma l'ho fatto anche nel 42 quando si creò il primo partito nazionale fascista